Ciao tifosi, quando il migliore in campo è il portiere vuol dire che qualcosa non è andato nel verso giusto. Ci siamo fatti schiacciare dalla Spagna. L'Italia arrivava a questa partita con entusiasmo dopo l'ottima prova, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo, riguardo la partita contro l'Albania. Arriviamo contro la Spagna per giocarcela. Sappiamo che la nazionale avversaria ha diversi elementi che sono molto più talentuosi rispetto ai nostri, però diciamo che a livello di gruppo abbiamo fatto ben sperare. L'Italia affronta la Spagna con la stessa formazione che aveva affrontato l'Albania. Quindi si tratta di un 3-4-3, anche se c'è qualche variante riguardo il posizionamento di Chiesa. Importa Donnarumma, difesa 3 composta da Calafiori, di Lorenzo e Bastoni. Per centrocampo invece vi sono a destra Chiesa, a sinistra Di Marco, centralmente Barella-Giorginio e poi in avanti unica punta Scamacca, a destra Frattesi e a sinistra Pellegrini. Dunque, come vi dicevo, la prestazione dell'Italia sicuramente non è la stessa dell'Albania. Va detto che, naturalmente, la Spagna è una nazionale molto più forte, d'altronde è una delle favorite alla vittoria di questo europeo, però probabilmente in pochi si sarebbero aspettati una prestazione di questo tipo da parte degli azzurri, perché ci siamo fatti schiacciare in maniera troppo semplice, troppo facile. C'è stato poco pressing, poca aggressività dietro ai portatori di palla e abbiamo fatto anche tanti errori quando dovevamo passare il pallone, scaricare la sfera a qualche compagno. E quando aveva la palla a Spagna era difficilissimo andargiela a togliere. Quando invece avevamo la palla a noi c'era quasi una certa fretta nel voler cercare la giocata giusta. E quindi non abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Non so cosa è successo, perché la Spagna ha dominato questa partita. Penso sia oggettivo, quando è giusto vanno dati i meriti alla squadra avversaria, come in questo match. L'Italia, non dico che non è scesa in campo, ma quasi, perché ha avuto pochissime occasioni da gol e se non ci fosse stato Donnarumma, come vi ho detto il mio rincappo, probabilmente la partita si sarebbe decisa molto prima. La partita invece poi va decisa a causa di un infortunio, lo possiamo chiamare, di Calafiori. Nel senso che c'è Nico Williams, che è stata una vera autentica spina nel fianco, lì sulla destra, dove Di Lorenzo ha fatto una prestazione veramente brutta, nonostante qualche chiusura positiva, ma poi anche sul finale si faceva superare facilmente dagli avversari. Nico Williams, mentre questo pallone è forte dentro, Donnarumma allontana, però purtroppo vicino a lui c'è Calafiori, che non ha il tempo di rendersi conto che il pallone andava verso di lui, colpisce appunto la gamba di Calafiori e poi finisce in rete. Mi dispiace tantissimo per questo autogol di Calafiori, un ragazzo che sembra veramente promettente, aveva fatto molto bene contro l'Albania. Quest'oggi diciamo che è difficile trovare dei giocatori che abbiano fatto bene, tralasciando il nostro estremo difensore, Donnarumma. Molti giocatori in ombra, ma secondo me anche perché abbiamo giocato poco lì davanti e quando arrivavamo invece in quella zona del campo avevamo troppa frenesia nel voler cercare di offendere e attaccare. Quindi che altro dire? Veramente poco. Spero soltanto che contro la Croazia l'Italia, se la giochi tutta, sia una partita di riscatto, perché contro la Spagna era tornato l'entusiasmo. Eravamo molti di più tifosi azzurri rispetto a quelli spagnoli e quindi dopo l'Albania si era creata appunto questa voglia di tifare per l'Italia. Diciamo che questa sconfitta potrebbe essere una battuta dal resto, ma gli azzurri non si devono demoralizzare, dobbiamo crederci, siamo tranquillamente in corsa. Contro la Croazia dobbiamo fare veramente una prova di carattere, dobbiamo dimostrare di vodercela giocare. Quindi io non rischierei di portare a casa un pareggio, cercherei di giocarmela al massimo. La Croazia, diciamo che sappiamo, ha dei singoli molto forti, però a parer mio ce la possiamo giocare. Sicuramente non è la Spagna, quindi ce la possiamo giocare penso alla pari. Dobbiamo essere bravi però nel appunto gestire meglio la partita. Va capito se Spalletti farà giocare gli stessi undici, perché comunque ha ribadito la formazione contro la Spagna, potrebbe fare qualche cambio contro la Croazia. Staremo a vedere. Io penso che anche chi sta in panchina non veda l'ora di dimostrare il proprio valore scendendo in campo. Quindi vedremo cosa succederà contro la Croazia. C'è tanta amarezza, dispiace anche averla persa per un autogol, però sinceramente per come stava andando il match, prima o poi il gol. Ce lo potevamo aspettare, perché stavano attaccando veramente troppo spesso e quando tu ti chiudi in questo modo e giochi una partita in questa direzione, prima o poi il gol avversario tende ad arrivare. A meno che non sei fortunato e con un contropiede riesci a segnare, ma lì insomma è molto difficile. Quindi detto questo, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa partita. Lasciatevi un piacere se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, io sono un tifoso del Palermo, oltre che dell'Italia. Attivate la campanella delle notifiche, così quando carico un video vi arriverà l'avviso e a questo punto vediamo cosa succederà nel prossimo match. Sempre forza Italia, forza Azzurri, crediamoci ancora e dimostriamo il nostro valore, dobbiamo avere una prova di rivalza contro i Croati. Ciao tifosi!